E' nuovamente grande attesa per gli appassionati Rosazzurri e Rosanero. Scocca l'ora del derby di Sicilia. Al Massimino tornano ad incontrarsi Catania e Palermo. Sarà una sfida sentita per le due compagini dei tecnici Baldini e Filippi. Le due squadre in campionato inseguono obiettivi diversi, ma diverso è soprattutto il momento di forma che stanno vivendo. Lanciato verso il primo posto, attualmente in pugno al Bari, il Palermo arriva al Massimino per dar continuità di risultati ed evitare altri passi falsi, come quello di due settimane fa a Picerno. Il Catania ha assoluto bisogno di punti anche alla luce dell'ultimo KO, quello contro il Latina di Didonato, che ha lasciato tutti scontenti. Ma a decidere i derby, come sempre, non saranno soltanto numeri, tattica e schieramenti. Al Massimino determinante sarà l'approccio caratteriale delle due squadre alla partita. Lo scorso anno fu il cuore del Palermo a fare la differenza. In condizioni difficili ed in dieci uomini furono i rosa-nero a centrare i tre punti al Massimino, grazie al capolavoro del loro capitano Mario Alberto Santana. E intanto a precedere il derby di Catania c'è il pre-derby di oggi allo stadio Renzo Barbera, dove il ricavato dei biglietti venduti per la speciale sfida fra artisti e grandi ex rosa-nero e rosa-azzurri sarà consegnato alla città etnea. Un bel aiuto dopo il nubifraggio che ha colpito proprio Catania nello scorso mese di ottobre. Gran bel gesto grazie all'iniziativa dell'inviato delle Iene Ismaele Lavardela e di Roi Paci. Allo stadio Massimino di Catania il fischio d'inizio per il derby di domenica è fissato per le ore 14.30. Come di consueto sui nostri canali social inonda il pre-partita live a cura della nostra redazione a partire dalle 13.30.